Riforma Attiva è un progetto che forma e sicura per conto del Dipartimento della Funzione Pubblica che si propone di sostenere le pubbliche amministrazioni nei processi di cambiamento e di innovazione organizzativa e amministrativa. Le riforme della pubblica amministrazione che si sono avviate negli scorsi anni e che stanno seguendo ancora con le nuove politiche del governo richiedono alle amministrazioni pubbliche un grande sforzo anche di interpretazione e il progetto sostiene le amministrazioni in questa interpretazione. L'obiettivo del Formez è quello di non rendere le amministrazioni dipendenti da interventi istituzionali e anche già finanziati, ma quello di trasferire competenze in modo che possano essere autonome nei loro percorsi futuri di innovazione e di cambiamento. Noi abbiamo accompagnato al momento 17 amministrazioni pilota distribuite sui diversi temi di cui si occupa il progetto, quindi accesso civico, semplificazione, valutazione delle performance e assessment delle competenze e piano dei fabbisogni. I risultati tangibili sono tanti perché le amministrazioni hanno restituito una fotografia di interventi andati a confine in termini di riorganizzazione interne e di rafforzamento delle competenze. Abbiamo le amministrazioni che hanno lavorato sul tema della conferenza di servizi, che hanno anche attivato sinergie positive che prima non c'erano e oggi ci sono con altri enti sul territorio regionale. Abbiamo amministrazioni che hanno sviluppato i piani di fabbisogno del personale o anche solo fatto una riflessione strategica che prima non pensavano di dover fare o di poter fare. Abbiamo lavorato sui sistemi di misurazione e valutazione delle performance, agganciandoli a quello che è il dettato normativo. Quindi ci sono tanti risultati che magari sono poco materiali, ma che in realtà poi hanno lasciato una presenza significativa all'interno delle organizzazioni. Il Formez con il progetto riformativa in realtà conferma un ruolo che ha ormai da anni nell'implementazione in particolare di tutti i progetti sul rafforzamento della capacità amministrativa, che è quello in qualche modo di dare gambe a degli interventi normativi e a degli indirizzi istituzionali, di dargli gambe attraverso ovviamente un'attività di affiancamento e supporto alle amministrazioni che è rappresentata da un processo bionivoco, perché nel trasferire competenze e conoscenze alle amministrazioni, le amministrazioni ridanno al Formez esperienze, criticità, difficoltà anche di attuazione e il Formez può riportare a livello centrale direttamente al Dipartimento della Funzione Pubblica e chi poi queste politiche le definisce. iscriviti al nostro canale